Spesso in altre puntate ho parlato della sneaker, cioè la scarpa che è proprio la scarpa da riposo oppure la scarpa da sport, la scarpa del tempo libero che ormai è assurda a stare, cioè nel senso che soprattutto il campo femminile viene molto decorato e c'è una grande ricerca. E allora è interessante vedere e andare a visitare e guardare insieme le collezioni sia maschili che femminili di un marchio che è proprio famoso nella produzione di calzature per il tempo libero e così per lo sport come l'Humberjack. Ebbene qui vediamo come veramente c'è una grandissima ricerca dei materiali, c'è una grandissima ricerca nel comfort. Grazie a tutti.